Fondazione Giovanni Paolo II, braccio di ferro tra sindacati e proprietà, si è concluso con un nulla di fatto il tavolo deciso per scongiurare il licenziamento di 45 dipendenti del settore amministrativo, ausiliario e infermieristico. Le organizzazioni sindacali hanno ribadito il loro secco o no ai licenziamenti, riconoscendo unicamente come valido l'accordo dello scorso 29 aprile. Filmati inchiodano il piromane dello stingone. Grazie alle telecamere nascoste, gli uomini del corpo forestale, unitamente i militari della stazione di Benafro, hanno arrestato l'ausiliario dei vigili del fuoco, responsabile dell'incendio appiccato presso il comune di Pozzilli. Mal tempo, strade allagate e traffico in tilte in tutto il basso Molise. Pomeriggio di emergenze a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla costa con una tempesta di tuoni e fulmini, cogliendo di sorpresa cittadini e turisti in centro e costretti al fuggi-fuggi dal mare. Numerose le chiamate al 115 per strade e garage allagati. Campo a basso calcio, giorni febbrili per le nomine. A breve in Casa dei Lupi saranno ufficializzate le cariche per Rucci verso la presidenza della nuova società. Novità anche sul fronte mercato, diversi giocatori in arrivo. Ben trovati con l'informazione di Molise TV e di nuovo braccio di ferro tra la fondazione Giovanni Paolo II e le organizzazioni sindacali. L'ultimo incontro si è concluso con un nulla di fatto. Il tavolo era stato deciso per scongiurare il licenziamento dei 45 dipendenti del settore amministrativo, ausiliario ed infermieristico. Sentiamo. E' ancora scontro tra i sindacati e la fondazione Giovanni Paolo II. Nell'ultimo incontro, durato solo pochi minuti, sono stati confermati i tagli al personale e la decurtazione sugli stipendi. I vertici aziendali hanno di fatto rinnegato l'accordo dello scorso 29 aprile in Regione e respinto anche la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione Inderoga, così come prefigurato dall'assessore Petraroia, che ha mostrato tutto il suo disappunto. Ritengo un errore l'insistenza dei vertici della fondazione Giovanni Paolo II, che in sede di confronto con le organizzazioni sindacali, hanno riproposto i licenziamenti di 45 infermieri, senza prendere in considerazione la possibilità di collocarli, a costo zero per l'azienda, in Cassa Integrazione Inderoga per il periodo 1 settembre 31 dicembre 2013. Mi appello al senso di responsabilità dei dirigenti della struttura sanitaria, ha concluso l'assessore, perché si fermino i licenziamenti e si riapra un confronto serio tra le parti. In tutta risposta, le sigle sindacali hanno deciso all'unanimità di respingere in toto tale proposta, definendola irricevibile e riconoscendo come unico accordo quello sottoscritto il 29 aprile, avvallato anche dai lavoratori a seguito di un referendum, e discusso presso la giunta regionale alla presenza del governatore Paolo Di Laura Frattura. Le trattative hanno dunque registrato un brusco stop e resta forte la preoccupazione tra i 45 lavoratori a rischio licenziamento, che dal prossimo 1 settembre si vedranno decurtare l'8,88% sullo stipendio mensile, senza diritto di restituzione. In una nota stampa, i sindacati hanno ricordato che la Fondazione ha già usufruito di uno stanziamento del Ministero per misure a sostegno dell'occupazione, ma senza la collaborazione dei sindacati e dei lavoratori, non escludendo poi il ricorso all'autorità giudiziaria. L'assessore regionale Michele Petraroia ha scritto una nota al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giovannini chiedendo l'attivazione degli strumenti di tutela del reddito per i 550 avventizi coinvolti nella crisi della filiera vicola e vieticolo saccarifera. Molti di essi sono lavoratori della GAM sull'Agrital, doppiamente penalizzati, ha spiegato l'assessore regionale al lavoro Petraroia, perché oltre a vedersi ridurre le giornate lavorative, non possono accedere agli ammortizzatori sociali. Gli impegni finalizzati alla tutela del reddito degli avventizi assunti dal Ministero del Lavoro il 16 marzo scorso, condiviso dalle parti sociali e assunto in sede di Commissione regionale tripartita all'unanimità il 5 luglio, non ha portato ad alcuna soluzione lasciando questa ingiusta penalizzazione. E passiamo ora alla cronaca. Ieri un bambino di tre anni di Campobasso ha ingoiato una polpetta di carne e ha rischiato di morire soffocato. L'incidente si è verificato durante un pasto consumato insieme ai genitori presso il ristorante Ikea di Bari. Tempestivo l'intervento dei medici del 118 presso la sede del Colosso Nordeuropeo, che hanno prima cercato di rianimare il piccolo e poi l'hanno trasportato d'urgenza presso l'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione. I medici che lo tengono sotto stretta osservazione non hanno ancora sciolto la prognosi, causa la gravità della situazione. E parliamo ora del maltempo che ha interessato la giornata di ieri, provocando danni e disagi a Termoli e in tutti i comuni costieri. Sentiamo. Il primo forte temporale della stagione estiva ha causato numerosi disagi in tutto il basso Molise. Le abbondanti precipitazioni, accompagnate da fulmini e tuoni, hanno interessato i paesi dell'immediato Interland costiero. Le forti piogge non sono state smaltite dagli impianti fognari, tant'è che molti tombini non ce l'hanno fatta a contenere il forte flusso di acqua che ha invaso le strade. Traffico in tilt in città e in autostrada, dove due autovetture, proprio all'altezza del casello di Termoli, sono state coinvolte da altrettanti testacoda, slittando pericolosamente sull'asfalto viscido. Incidenti che hanno avuto come conseguenza vistosi ammaccature veicoli, ma fortunatamente nessun ferito. Locali, abitazioni e cantine posti al pian terreno si sono allagati. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco di Termoli alla Capitaneria di Porto, impegnata a far rientrare alcuni diportisti sorpresi dal maltempo in mare nello scalo marittimo. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno i locali di culto. Un fulmine, infatti, ha colpito la cattedrale in piazza Duomo a Termoli, provocando danni al campanile. Numerosi calcinacci caduti al suolo. Il fulmine ha provocato anche un temporaneo blackout che ha mandato in corto la centralina dell'episcopio, bruciando il quadro elettrico che serve l'ala al pian terreno. Allagamenti si sono verificati anche a Campomarino, una delle zone più a rischio in caso di maltempo, dove i disagi si sono puntualmente ripresentati, facendo ripiombare i residenti nello sconforto. Disagio anche a Castelmauro, dove è scoppiata la condotta fognaria e uno smottamento, ha causato l'interruzione dei collegamenti. La perturbazione addetta degli esperti dovrebbe durare tutta la giornata odierna, per poi lasciare spazio al sereno nei prossimi giorni. E in tanti sperano che l'estate non sia ancora finita. Funivia e Molise SPA, inutile carrozzone. Questa la dichiarazione dell'assessore alle attività produttive Massimiliano Scarabeo, che in una nota ha espresso l'intenzione di mettere in liquidazione la società dal prossimo mese di settembre. In questi quattro anni, ha continuato l'assessore, la mission aziendale è stata totalmente fallimentare, gestendo solo ingenti somme di denaro pubblico e generando forti perdite economiche. In un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica e di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, è mia intenzione dare un nuovo assetto societario a quella che deve essere la gestione delle stazioni sciistiche di Campitello e Capracotta, nonché uno sviluppo organico delle montagne molisane. Via Libera, l'erogazione delle risorse destinate alla prevenzione sismica, 185 milioni di euro resi disponibili dal capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2013. Il Molise dovrebbe ricevere finanziamenti tra i 9,4 e i 6,5 milioni di euro. Sentiamo. È giunta la firma del decreto per l'erogazione di 185 milioni di euro destinati alle azioni di prevenzione sismica. Risorse rese disponibili dal capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2013. Il provvedimento ripartisce i contributi tra 17 regioni d'Italia sulla base dell'indice medio di rischio sismico. Al Molise saranno destinate tra i 9,4 e i 6,5 milioni di euro. Stessa somma per Umbria, Marche, Basilicata, Puglia, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dei 185 milioni di euro, 169 saranno impiegati per interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico per gli edifici e per le opere pubbliche di interesse strategico per finalità di protezione civile, nonché su edifici privati. Altri 16 milioni di euro serviranno per finanziare gli studi di microzonazione finalizzati a conoscere meglio il territorio. Alto rischio sismico per Calabria, Sicilia e Campania che riceveranno rispettivamente 26,4, 25,9 e 25,6 milioni di euro. Una somma cospicua che tiene conto della pericolosità del territorio, della vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture. Tali contributi statali sono concessi alle regioni che cofinanziano la spesa per almeno il 25% del costo degli studi di microzonazione. La parte dedicata agli interventi strutturali sarà compresa tra un minimo del 20% e un massimo del 40% dedicata agli edifici privati. I 185 milioni sono una quota dello stanziamento complessivo di 965 milioni di euro che la legge numero 77 del 2009 ha previsto di erogare nell'arco di 7 anni per realizzare interventi finalizzati alla mitigazione del rischio sismico sull'intero territorio italiano. Fondi che potrebbero rappresentare una boccata d'ossigeno per i costruttori ed i li impegnati nella ricostruzione post-sisma che ancora attendono i pagamenti previsti a valere di 5 milioni di euro trasferiti ormai da giorni dalla regione Molise all'Agenzia Regionale di Protezione Civile. Il neodirettore Riccardo Tamburro, chiamato a sostituire improvvisamente Giuseppe Giarrusso, non ha ancora firmato i mandati di pagamento. Duro l'affondo del consigliere regionale del PDL Nicola Cavaliere nei confronti della maggioranza di centrosinistra che si fa scudo dietro il tanto reclamizzato spoil system, ha commentato Cavaliere ma poi non fa altro che ingolfare ulteriormente la macchina burocratica e creare disagi seri anche perché il cambio dei vertici presso gli enti operato in sintonia con il cambio dei governi non può certo essere operato sacrificando i cittadini, i loro diritti e i loro sacrosanti bisogni. E intanto c'è attesa per l'erogazione dei fondi per la prevenzione sismica destinati al Molise in un periodo in cui ogni giorno di ritardo rischia di aggravare ulteriormente la situazione facendo crullare l'intero sistema. E restiamo in argomento. Il giudice del Tribunale di Campobasso, Teresina Pepe, ha rigettato la richiesta di Giuseppe Giarrusso sul provvedimento di sospensione di giugno e lo ha condannato al pagamento delle spese di procedimento che ammonterebbero a circa 600 euro. Intanto il giudice Laura Scarlatelli ha raccolto la richiesta dei legali dell'architetto di accorpare i due procedimenti disciplinari a carico di Giarrusso e di rinviare la discussione al 10 settembre. Il prossimo 29 agosto invece sarà discusso il ricorso dell'osservatorio molisano sulla legalità contro la nomina di Riccardo Tamburro al vertice dell'Agenzia regionale di protezione civile designazione che secondo gli avvocati di Ritis e Romano è in contrasto con il decreto Monti numero 39 del 2013. Il corpo forestale dello Stato ha arrestato un piromane, un cinquantenne di Pozzidi ritenuto responsabili degli incendi che negli ultimi 13 anni hanno devastato il Monte Stingone. I dettagli dell'operazione chiamata Flash Fire sono illustrati questa mattina in una conferenza stampa. Con molta probabilità il Monte Stingone, l'area boschiva che si trova tra Pozzilli e Santa Maria Oliveto non brucerà più. Il corpo forestale dello Stato ha infatti arrestato un uomo ritenuto dal personale del nucleo investigativo antincendio boschivo il responsabile dei roghi che negli ultimi 13 anni hanno devastato ettari e ettari di vegetazione. Contro di lui molte prove che il comando provinciale di Isernia ha raccolto dopo mesi e mesi di indagini ad incastrare il piromane l'uomo sulla cinquantina è residente a Pozzilli. Questi pochi fotogrammi catturati il primo agosto alle ore 20 e 24 da una telecamera installata nei pressi del Monte Stingone dagli uomini della forestale. Il video mostra l'uomo che lancia dal finestrino della propria auto un ordigno incendiario costituito da pietra e carta. Subito dopo una nuvola di fumo l'incendio è stato appiccato e solo grazie all'intervento di alcuni passanti non ha avuto sviluppi drammatici allertando immediatamente i vigili del fuoco, la protezione civile e il corpo forestale dello Stato. Di indagini accurate e di attenzione verso fattispecie che meritavano attenzione in ragione di indizi precisi, gravi, concordanti che il nostro personale ha potuto portare avanti e verificare siamo arrivati ad identificare con tecnologia avanzata e moderna telecamere appositamente posizionate nei posti giusti, diciamo così l'avete potuto vedere, lo vedrete dalle immagini siamo riusciti ad identificare un incendiario, un piromene una persona che volontariamente ha voluto fare un gesto scelerato permettetemi di considerarlo in questo modo. Per gli inquirenti l'uomo che in passato ha anche lavorato nelle squadre dei vigili del fuoco avrebbe un disturbo psicologico. Il corpo forestale dello Stato ha cercato di capire nel corso degli anni quali fossero le motivazioni dietro questi gesti sicuramente si è arrivati ad identificare un pochino il piromene, l'incendiario come una persona che ha una patologia comunque una persona che vive un disagio sociale e personale. Ora l'uomo si trova ai domiciliari il provvedimento restrittivo è stato disposto dal GIP del Tribunale Pentro su richiesta del pubblico ministero le attività sono state coordinate anche dalla Procura della Repubblica di Sernia. Il nostro legislatore ha previsto un'ipotesi specifica quella proprio dell'incendio boschivo 423 bis ipotesi specifica che prevede una pena molto superiore a quella dell'incendio di quell'articolo 423 ed è una pena che va dai 4 ai 10 anni di reclusione. Il nostro legislatore ha inteso punire severamente coloro che attentano al nostro patrimonio. Parliamo ora di sanità, ancora di disagi presso l'ospedale Veneziale di Sernia mancano autisti al personale del 118 tra gli ambulanzisti rimasti sono costretti a svolgere turni di lavoro esuberanti. Sentiamo. A causa della carenza di personale presso l'ospedale veneziale di Sernia gli autisti di latoambulanza del 118 sono costretti a svolgere turni di lavoro esuberanti. Da alcuni mesi il personale sanitario ridotto è passato da 6 a 3 unità numero che non consente di garantire un servizio efficiente e sicuro. Per tali motivi il personale impiegato è costretto a svolgere servizi di reperibilità notturna per coprire tutti i turni non avendo quindi diritto a congedi ordinari e in casi estremi permessi di malattia in quanto si rischierebbe di interrompere il servizio di lavoro. In questi giorni i turni svolti da alcuni autisti del 118 sono stati davvero massacranti infatti oltre a svolgere il normale servizio di lavoro che va dalle ore 8 del mattino fino alle ore 14 un dipendente sanitario ha dovuto svolgere per necessità ore di straordinario vedendolo impegnato fino alle 2 di notte del giorno seguente. Siamo stanchi di svolgere turni di lavoro eccessivi così si rischia di dare un servizio poco adeguato ai pazienti hanno sottolineato i dipendenti questi orari sono improponibili in tre persone non è possibile ricoprire tutte le emergenze. Bisogna anche aggiungere che nell'ultimo periodo la situazione si è ulteriormente aggravata in quanto a causa della rottura del macchinario dell'attacco del Veneziale il personale sanitario è costretto a fare continuamente la spola tra l'ospedale veneziale e il Santissimo Rosario di Venafro. Ora i tre ambulanzisti chiedono che venga rivista questa terribile situazione altrimenti questi ultimi invieranno un esposto alla procura della Repubblica di Sernia. Il silenzio è il peggior complice della legalità e della trasparenza con queste parole il presidente della Commissione regionale anticorruzione Vincenzo Musacchio ha invitato a non spegnere i riflettori sull'inchiesta che riguarda le spese folli dei gruppi consigliari ad essere coinvolta è quasi tutta la classe politica regionale molisana che va dal 2008 al 2012 Siamo fermamente convinti, ha concluso Musacchio che solo la Costituzione di parte civile possa davvero essere l'occasione per dimostrare che si fa veramente sul serio nel contrasto alla corruzione e agli abusi della casta soprattutto in una regione come la nostra nel quale l'attività della stessa ha raggiunto punte da allarme rosso. Ennesima maglia nera per la regione molise questa volta nel settore turistico si spende tanto ma nonostante ciò arrivano pochi turisti Sentiamo Più investi e meno attrai questo è il paradosso italiano del turismo regionale almeno ciò è quello che emerge dai dati dello studio recente della Confartigianato la Sicilia è la regione che ha speso più negli ultimi anni pur occupando solo il decimo posto nella classifica del turismo regionale a condividersi le maglie nere di questa speciale classifica ci sono il Molise e la Basilicata rispettivamente ultima e penultima di fatti il Molise è una regione poco conosciuta dal punto di vista turistico i turisti, soprattutto i novelli che non sono mai stati in regione affermano o che si sono trovati di passaggio in regione o per caso ma poi confermano la bellezza paesaggistica e naturalistica della regione apprezzando le montagne e il mare e riconfermando la loro presenza per la stagione successiva bisogna ricordare infatti come molto spesso le località molisane vengono insegnate di riconoscimenti prestigiosi come quello ricevuto per le bandiere blu da parte della FEE però ciò non basta soprattutto se si guardano i dati ISTAT e COPAF riferiti al periodo 2009-2011 infatti in Italia sono stati spesi circa 940 milioni di euro e in particolare l'assessorato regionale molisano al turismo ha speso circa 9 euro a testa turista attirandone poco più di 614.000 in questa speciale classifica la regione più virtuosa è il Veneto infatti spende circa 60 centesimi a turista garantendosi il numero maggiore di turisti al costo minore per singola persona sembra un paradosso ma ci si trova davanti una relazione inversa tra la spesa e il numero di turisti che di primo acchitto può non sembrare coerente e logica ma a confermare questo trend seguono altre regioni come la Toscana, l'Emilia e la Lombardia e cambiamo argomento inaugurato ieri a Termole il nuovo polo velicolo remiero nella stessa giornata in cui Fraglia Riva del Garda si laurea campione d'Italia Optimis, una giornata storica quella di ieri per il circolo di Termoli nel pomeriggio in cui l'associazione ha potuto festeggiare l'inaugurazione del nuovo polo velicolo remiero la compagine trentina ha trionfato battendo in finale per due regate a zero e campioni uscenti della Fraglia Vela Malcenisi al terzo posto lo Yachting Club italiano da Genova passiamo ora al calcio a breve in casa Campobasso verranno ufficializzate le cariche perrucci verso la presidenza della nuova società novità anche sul fronte mercato diversi sono i colpi in arrivo sentiamo in fermento il mercato del nuovo Campobasso a breve ci sarà l'incontro tra la nuova dirigenza dei Lupi e la promessa di San Martino Vittoria Esposito le parti sono molto vicine visto il reciproco interesse nel chiudere la trattativa un colpo niente male in quanto ha un grande potenziale il numero 10 molto probabile l'arrivo di un altro big infatti si pensa a un giocatore di categoria superiore con passate esperienze sia in C che in D di cui gli addetti ai lavori non lasciano trapelare per il momento il nome sempre in tema di organico sono certe le firme di Monti, Minadeo e Corradino e quasi certe anche quelle degli ex Trivento, Tamaro e Scudieri come quelle di Sabatino e Scampamorte molto difficile invece la questione Varchetta visto che il Terracina non sembra per nulla intenzionato a disfarsi dell'abile difensore per quanto riguarda il discorso Under i nomi più accreditati sono quelli dei ragazzi che lo scorso anno hanno fatto bene nel Campobasso come Nunziata, Mauriello, Iovine e Palmiero ma prima di mettere a segno tutti questi colpi c'è la necessità di dare una compattezza e una struttura solida alla società che sta nascendo a partire dalla presidenza che nelle ultime ore sembra verrà affidata a Perrucci altro nodo da sciogliere è quello legato al capitolo stadio anche qui è ancora tutto da decidere da registrare poi nelle ultime ore un clamoroso tentativo da parte del sindaco Gino Di Bartolomeo di far conciliare il Campobasso 1919 con gli imprenditori che hanno bloccato il titolo della Santeliana con il fine di creare un'unica squadra secondo alcune indiscrizioni infatti ci sarebbe stato anche un summit al riguardo per trovare una soluzione in extremis ma questa notizia al momento non trova conferma questa è la nostra ultima notizia io vi lascio alle previsioni del tempo e vi ringrazio per aver scelto l'informazione di Molise TV il meteo è offerto da al di là delle parole se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere naturalmente bella naturalmente bella naturalmente bella a Campobasso in via Campagna 215 Previsioni del tempo per giovedì 22 agosto 2013 persiste un flusso di correnti settentrionali moderatamente instabili sull'Adriatico che rinnova l'instabilità su Molise, Basilicata e Puglia al mattino qualche rovescio tra Foggiano e Salento nubi sparsi altrove ma con bassa probabilità di fenomeni più sereno e asciutto su tutti i settori tra sera e notte venti moderati dai quadranti nord-occidentali con mari generalmente mossi temperature senza variazioni significative Campobasso minima 16 massima 25 gradi Isernia minima 18 massima 26 gradi Termoli minima 23 massima 26 gradi Il meteo è stato offerto da Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere naturalmente bella naturalmente bella naturalmente bella a Campobasso in via campagna 215 A presto! 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 Grazie.